ciao a tutti dal salutatore eccovi qui alla festa del cinema di roma sul red carpet abbiamo straordinaria claudia cardinale che a breve verrà qui eccola qui noi ci apro in fiamo ecco la straordinaria claudia cardinale ecco il bello del red carpet questo ragazzo si vergogna a fare una foto con te di qualcosa ok grazie ciao claudia un saluto il saluto a noi mi ricordi un saluto in diretta a tutti i tuoi fan siamo in diretta su facebook ciao ciao sei straordinaria ciao claudia carissima claudia ed ecco qui abbiamo il grande raffaele piso straordinario ciao raffaele ti ricordi il salutatore il salutatore sì un saluto bravo ciao grande grande raffaele piso ecco qui il bello del red carpet la festa del cinema per il momento è tutto io vi saluto tutti quanti ciao domenica ciao daniele e scusate quelli che non riesco a vedere ciao massimiliano e per il momento avete assaggiato il sapore della festa del cinema di roma ciao vincenzina ciao simone che sei qui e che fai ciao giuliano testa grande giuliano testa grande paolo stattari ciao gabriele ciao lorenzo e ovviamente faccio un saluto a tutti quelli che vedranno il video più tardi e cosa dirvi di più io vi saluto direttamente dal red carpet pezzo del cinema dal salutatore ciao